Ciao, mi chiamo Massimo, vengo dall'Italia, più precisamente dalla provincia di Ravenna. Sono venuto ad Istanbul, in Turchia, per, tra virgolette, realizzare il mio sogno che ho da qualche anno, ma ho sempre avuto paura, ho sempre avuto timore di fare questa cosa. Ultimamente ho contattato, sinceramente, parecchie cliniche che si occupano di questi tipi di interventi. La scelta è stata stata difficile, però alla fine ho scelto Aerov Istanbul, forse per un motivo, forse perché è stata l'unica clinica che mi ha detto di no, nel senso che si è presa del tempo, ha voluto altre informazioni su di me e dopo un mese mi hanno detto ok, si può fare. Quasi tutte le altre mi hanno detto sì sì, perfetto, possiamo andare. Probabilmente questo mi ha fatto un attimo capire che questa clinica vuole essere sicura del risultato finale e quindi deve avere anche sul paziente la garanzia che possa avvenire un trapianto top. Quindi questo è quello che mi ha portato a scegliere Aerov Istanbul. Sinceramente sono venuto da solo in Turchia, partendo dall'Italia da solo non è stato così facile dal punto di vista psicologico, nel senso che mille timori, l'aereo, l'arrivo in aeroporto, la lingua. Comunque è andato tutto bene perché è organizzazione perfetta. Sono arrivato all'aeroporto, sono stato accompagnato in hotel, mi hanno dato tutte le info, ho contattato il mio contatto in Italia di Aerov Istanbul, successivamente il giorno dopo di nuovo un'altra persona che mi ha accompagnato in clinica, poiché Carla che mi ha seguito per tutto l'intervento e simpaticissima, disponibilissima, spero sia andato tutto bene, sembrerebbe nulla. Oggi sono qua, medicazione, domani si riparte. Se potessi tornare indietro sicuramente farei di nuovo questa scelta, assolutamente. Aerov Istanbul. Spero tanto di potermi guardare allo specchio e di rivedere me a 16 anni. Spero tanto di potermi guardare allo specchio e di rivedere me a 16 anni.